Bella ragazzi, oggi siamo qui in questo video strano perché è il primo video sul canale mio e di Edo che facciamo da soli. Non c'è Edo, non l'ho detto, ok? No, non c'è, non uno scherzo. Questo video è stato fatto perché io adesso stavo editando il video che vedrete da questo spezzettone e allora ho visto che mancavano 4 gol. Allora ho detto, beh, non metterlo non posso, metterlo senza dirlo, poi mi picchiano con gli da squadra e allora dico, lo dico e basta. Mancano 4 gol, uno di Tommaso, uno di Edo, gli altri non me li ricordo, uno di Davide, forse. E quindi niente, se, allora, e poi vi faccio una proposta, se quest'idea di fare il video vi piace, il video delle partite tipo le relazioni più belle, continua. Se invece vi piace così tanto, si potrebbe pensare di fare un canale, addirittura, s.unitivovisa, dove hanno la password del mail, ovviamente, tutti con la squadra, tutti, così, Pietro che è bravo, che è uno della nostra squadra, può dare una mano. Questa era un'idea che mi era venuta di fare un canale dove si mettono solo cose aderenti alla squadra. Grazie. 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 Grazie a tutti. Grazie. 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 Grazie.